Siamo all'appuntamento con Fuoricinema dal 20 al 23 di giugno. Giovedì, apriamo giovedì 20 alle ore 16.30 con una merenda, la musica è subito dopo un incontro importantissimo dal titolo a cuore aperto con il sindaco Beppe Sala e poi con Gabriele Salvatore, Stefano Sollima, Alessandro Borghi, Paola Turci, insomma via via in un crescendo fino alla chiusura di domenica mezzanotte, domenica 23 chiuderemo il programma che per noi è veramente molto particolare. Grazie.